e alla quale diamo il buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Siamo a Stoccolma in questo momento. Martina, Martina, ciao Martina, buongiorno, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao Martina, senti ma ti vedo bella incappottata, fa freddo dove sei tu? Cinque gradi. Ah, allora dove sei Martina? Dicci dove sei, facci vedere, dove sei? Sono dentro un centro commerciale del centro di Stoccolma. Sei a Stoccolma, sei a Stoccolma, ecco. E raccontaci un po', ecco, vediamo dietro persone, ovviamente vediamo una vita normale lì a Stoccolma, gente ovviamente senza mascherine, ma lì non ci sono mai state. C'è una vita che sta proseguendo Martina, vero? Raccontaci come va. Sì, è una vita che sta proseguendo e che fondamentalmente non ha mai subito un impatto, insomma, come quello che è stato visto in Italia per quanto riguarda la libertà personale. Certo. E quindi fin dall'inizio dell'estate era stata pianificata una progressione di allentamento di restrizioni che poi ha portato un ritorno alla normalità totale a partire dal primo ottobre, anche se dobbiamo ricordare che qui non è mai stato fatto lockdown, non c'è mai stato coprifuoco, né chiusura di negozi, appunto obbligo di mascherina. Esatto, mai, mai. Ecco, vogliamo ricordare che la dottoressa Dorazio è un medico psichiatra, ovviamente italiana, sei di Roma, quindi sei nostra anche concittadina, ma che lavora in Svezia, lavora a Stoccolma. A Stoccolma c'è una medicina di grande eccellenza e quindi noi siamo fieri quando poi i nostri medici vengono chiamati anche a lavorare in questa città che sono praticamente... Stoccolma, poi peraltro al Karolinska Institut, è un istituto molto famoso in tutto il mondo e che onora ovviamente l'Europa, delle grandi eccellenze, quindi la Svezia è un paese che si è sempre distinta, lì nascono i premi Nobel e compagnia bella, quindi quando qualche nostro concittadino viene chiamato in questi paesi che hanno una grande tradizione, una grande cultura medica, noi siamo molto orgogliosi. Quindi Martina è un medico psichiatra, è lì a Stoccolma e ci ha sempre raccontato spesso in questo periodo cosa sta accadendo. Oggi, 12 novembre, è lì, la vediamo. Dietro di lei c'è un fermento, ci sono persone, un centro commerciale, poi Martina se non fa troppo freddo magari vediamo pure quello che accade fuori.